Ritornerò E' passata una settimana in realtà ricca di tante cose, in effetti tutto cambia e in realtà poi dentro di me è cambiato poco, nel senso se non una grandissima gioia di questa vittoria, di questa fiducia da parte della stampa, da parte del pubblico. E' un'esperienza indescrivibile che sicuramente rimarrà negli hard disk della mia vita per sempre. L'album si chiama Qui per te, è stato prodotto da Daniele Luppi che è il produttore di Joe Legend e Nora Jones a Los Angeles ed è un po' un viaggio, è un modo per dedicarsi del tempo e dedicare del tempo a qualcun altro, quindi vi invito a farvi questo regalo. Non è da vicino e nemmeno dosso, no, non desiderare, lascia, non esiste mai, silenzi per cena, conoscersi, lasciarsi le mani, non è quello che ci spetta, Né buone idee, né baci per strada, adesso è qui, nostalgico presente. Continuerò a fare queste presentazioni in giro per l'Italia, poi partirà un live at home, che è questa tournée nei salotti che ho fatto in questi ultimi due anni, saranno soltanto dieci date, diciamo una versione compatta in attesa che parta il tour poi in primavera nei teatri in giro per l'Italia. Parlami di te come io fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano, ritornerò, ritornerò, ritornerò da te, ritornerò da te. Grazie a tutti!